Ciao a tutti ragazzi, oggi parliamo del Saleva AlpMate 26 litri e lasciatemi subito dire una cosa Finalmente, finalmente, uno zio di Saleva che nel provarlo non mi ha fatto sudare 85.000 camice e non ci ho fatto di quelle sudate megagalattiche Quindi adesso vediamo insieme perché vi ho detto questo all'interno della recensione completa Iniziamo come al solito da qualche caratteristica fornita dalla casa Innanzitutto i litraggi disponibili sono 26 litri e 36 litri ed esistono anche i modelli femminile Nel particolare il mio da 26 litri pesa 980 grammi e tutti utilizzano la nuova tecnologia dryback per quanto riguarda lo schienale E adesso che abbiamo visto qualche caratteristica iniziamo con i pregi difetti Iniziamo dallo schienale di questo Saleva AlpMate Come vi dicevo tecnologia dryback e finalmente uno schienale di Saleva che fa traspirare Innanzitutto lo schienale è rigido quindi non possiamo comprimere lo zaino È uno schienale che è composto da due bande che vanno a sorreggere tutto lo zaino Praticamente all'interno è vuoto, cioè all'interno non c'è una retina vera e propria Queste due bande sono fatte in schiuma e devo dire che è uno zaino veramente super traspirante Io l'ho utilizzato anche in questi ultimi giorni di settembre con 30 gradi Vi assicuro che ha veramente traspirato tanto È finalmente una tecnologia di Saleva che non mi fa sudare la schiena Devo dire che anche per quanto riguarda poi la stabilità del carico Sicuramente non ci possiamo portare tantissimi chili perché è un 26 litri Però i 4-5 chili che riusciamo a portarci li tiene stabili veramente molto molto bene Vi ho già spoilerato quanto si può portare perché la fascia lombare non serve tanto per scaricare il peso Quanto per tenere fermo lo zaino Infatti è una fascia lombare abbastanza flessibile Che non ha però nessuna tasca in cui poter riporre qualche oggetto Questo la considero personalmente un pochino un difetto perché Dai quanto ci voleva mettere una taschina in cui magari riuscire a riporre il telefono È veramente una grossa mancanza Per quanto riguarda invece la chiusura sulla parte anteriore È semplice con una clip che funziona bene Anche quando ci portiamo 5 chili nello zaino non ha nessun problema A livello di spallacci poi questi sono fatti veramente molto bene Hanno una sezione abbastanza larga con l'intaglio in mezzo classico di Saleva Questo fa sì innanzitutto di poter ridurre un po' il peso dello zaino E soprattutto anche di poter scaricare per bene la pressione su tutta la nostra spalla Per evitare che poi ci facciano male le spalle a lungo andare Devo dire degli ottimi spallacci realizzati con la stessa schiuma in cui è realizzato lo schienale Quindi molto traspirante Davvero ottimo spallaccio E poi come al solito troviamo la classica fibia pettorale da andare a stringere con all'interno il fischietto Continuiamo ad analizzare questo AlpMate passando dalla parte posteriore Iniziando da uno dei due lati I briannunci che sono simmetrici quindi ne vedremo solamente uno Per quanto riguarda la parte laterale è veramente molto semplice Troviamo una taschina in cui andare a riporre una borraccia Ci stanno le borracce fino a un litro E non è così semplice riuscire a prenderle da soli È un po' macchinoso È più semplice togliere lo zaino e farsi aiutare E poi nella parte superiore troviamo una semplice fettuccia da andare a chiudere Per andare a ridurre un po' lo zaino A comprimerlo Oppure nel caso dovessi comportare qualcosa all'esterno di lungo andare a fermarlo Ammetto che mi manca un pochino una fettuccia apribile Perché questa fettuccia superiore non è apribile Dai anche qua Quanto ci voleva mettere una piccola clip invece che una semplice fibia Secondo me poteva tornare molto più utile Per quanto riguarda la parte posteriore vera e propria È uno zaino abbastanza scarno Troviamo i due passanti per andare a riporre i bastoncini Sdoppiabili una destra e una sinistra Oppure anche lo bastoncino una piccozza volendo Nella parte anteriore non abbiamo nient'altro Se non una zip posta nel lato di destra Da utilizzare per andare ad aprire lo zaino E poter prendere gli oggetti riposti nella parte bassa Può tornare utile Probabilmente più sul 36 litri Perché in questo 26 essendo piccolino La roba in basso si riesce a prendere facilmente anche senza la zip Però comunque c'è può tornare comoda Per quanto riguarda poi la chiusura Vabbè il cappuccio si chiude con la clip che vedete nella parte posteriore La chiusura superiore invece è realizzata col semplice cordino Che tirandolo si va a chiudere e aprendolo si può aprire lo zaino Quindi veramente molto semplice E per quanto riguarda il cappuccio nella parte superiore È abbastanza grosso Cioè la tasca solo nella parte esterna Però devo dire che svolge comunque un ottimo lavoro A livello dei materiali devo dire che mi sono trovato veramente molto molto bene È uno zainetto che si può strusciare anche contro le rocce Lo si può maltrattare Non avrà nessun problema L'unica cosa forse Le taschine elasticizzate per le borracce Hanno una tramatura molto molto larga Fateci attenzione potrebbero strapparsi facilmente Però per il resto devo dire materiali veramente veramente ottimi Per quanto riguarda infine il comparto acqua Beh possiamo portare due borracce nella parte esterna Una vescica all'interno Possibilità di far uscire la prolunga sulla parte anteriore E poi è presente in dotazione anche un rain cover Che possiamo utilizzare nel caso dovessimo prendere acqua Arriviamo dunque alle conclusioni per questo Saleva AlpMate 26 litri Innanzitutto viene venduto da Saleva sul loro sito ufficiale a 100€ O l'ailon si trova tranquillamente tra i 70-75€ Ve lo consiglio assolutamente sì Io mi sono trovato veramente molto molto bene Per essere uno zaino per escursione giornaliera alla fine C'è qualche mancanza che mi ha fatto un pochino storcere il naso In primis e soprattutto La fatta che non ci siano delle tasche nella sua fascia lombare Però in generale devo dire che a livello di materiali Anche il prezzo comunque 70€ ci sta È un ottimo prezzo È uno zainetto che mi è piaciuto veramente tanto E che andrei avanti a utilizzare perché è veramente spaziale Peso poi molto buono perché comunque siamo sotto il chilo E anche utilizzando lo tasse mi vuoto davvero è molto molto leggero In atto ciao ragazzi Io spero sia stato esaurante e esaurante anche per questa recensione Vi ringrazio per la guardata E noi ci vediamo alla prossima Ciao